Buon Ferragosto! Allora, ieri, altra bella prova generale di ipocrisia commemorativa. È un dovere morale quello di punire i responsabili di questa strage assurda. Dobbiamo per forza, la magistratura deve indagare. O sono passati dieci anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova, 43 morti e ancora il Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio, dicono, è un dovere morale sapere chi sono i responsabili. I responsabili si sa benissimo chi sono perché è stato detto subito, ma chissà è un'ipotesi, ma sarà un po' difficile che chissà quante campagne elettorali un po' a tutti hanno pagato quei responsabili. Quindi io temo che non verranno mai colpiti i veri responsabili. Ci pensa poi dopo la storia economica a colpirli perché, come sappiamo, la loro storica agenda ha grandi difficoltà. Ma è così qui, è così. Se penso a come sono volati in cielo i poveri Luciana e Giorgio Alpi, senza che nessuno venisse condannato per l'omicidio di una giornalista coraggiosa. Cioè l'unico che venne condannato si fece da innocente, 17 anni di galera in Italia. fu tutto insabbiato, ma pur sapendo, sappiamo tutti, chi ha ucciso Ilaria Alpi e chi ha dato l'ordine di uccidere Ilaria Alpi. Ma qui è così, è tanto bello fare queste commemorazioni. Dobbiamo condannare i colpevoli dell'omicidio della giovane Ilaria Alpi e di Miriam Crovati. Dobbiamo condannare i colpevoli della strage del Ponte Morandi. E non viene mai condannato nessun vero colpevole. Buon feragosto.